Buon pomeriggio a tutti e benvenuti all'analisi ciclica evoluta settimanale su DAX e Fuzimib. Durante questa analisi facciamo alcune considerazioni prima dell'inizio della continua di lunedì delle 9.01-9.03 e vediamo dove si è arrivati. Allora, prima di tutto possiamo dire su DAX che abbiamo avuto una fortissima lateralità con massimi decrescenti e in questo caso sugli indicatori abbiamo avuto invece massimi crescenti. Ovvero, se il grafico me lo lascia fare, massimi crescenti. E' una divergenza che però in questo momento non sta dando particolari frutti perché c'è stata questa area di supporto a 13.000 e 50, 40 che non sta mollando in nessun caso e che ha portato a questa situazione, ovvero a una non chiusura di secondo T settimanale. Attenzione perché, ve lo faccio già vedere, la centratura che sembra più corretta in assoluto ci dice che qui il 6 novembre non c'è stata chiusura di settimanale per cui se il 6 qui non c'è stata chiusura di settimanale siamo andati a chiudere qui, su questo minimo a 13.004,82. Da allora abbiamo fatto un po' più a salire che a scendere, ma abbiamo fatto veramente ben poco e siamo molto vicini appunto alla chiusura stessa del settimanale che potrà avvenire entro 5 giorni lavorativi e quindi entro il venerdì perché al massimo arriverà a 11 T-3 il nostro secondo T anche perché il primo ne ha fatti 10 e quindi si è allungato più possibile. Sappiamo che la condizione non è ancora stata fatta perché c'è bisogno di un T-2 a chiusura di un T più 1 di settimanale, di indice peraltro l'inverso per ora è arrivato a 9 barre e potrebbe teoricamente essersi chiuso su questo massimo per cui occhio ai 13.172 e occhio anche ai 13.034 questi sono i due swing importanti per decretare che possono decretare o aver decretato la chiusura dell'inverso e la chiusura del bisettimanale dopo la chiusura peraltro di un T più 1 che però, ragazzi cari, io mi aspetterei perlomeno in quest'area ok, con cui area 12.894 ovvero sul supporto dato dal livello superiore dell'accumo che più o meno ci porterebbe agli 863 di fibonacci tirato da minimo a massimo del movimento dopo però attenzione perché se e come ci si aspetta continueremo ad andare su per cui faremo probabilmente possibile ripeto, è una delle tante possibilità una falsa rottura ribasso con poi finta e quindi salita oltre i massimi a 13.297 il discorso è che però c'è qualcosa che a questo punto ci dice che dovremmo scendere a qualche cosina di più anche per quanto riguarda l'inverso qui di inverso da questo massimo a questo per ora abbiamo appunto quelle 48 candele che ci dicono che abbiamo avuto perlomeno più di un T più 2 anche perché la centratura ci dice anche in questo caso che qui abbiamo potuto avere la chiusura del primo T più 2 inverso del primo mensile inverso e da questo massimo a questo abbiamo soltanto 20 barre per cui in realtà dovremmo cercare di andare sopra questo massimo per avere una chiusura vera e propria di T più 3 e viceversa avremo un due tempi fatto da un primo tre tempi e un altro se prendiamo questo massimo e lo portiamo fino a qua abbiamo 48 barre e siamo andati oltre al mensile per cui no teoricamente guardando l'inverso dovremmo prima andare a fare un massimo superiore ai 13.297 e poi andare a chiudere quindi il contrario di quella finta che potevamo eventualmente aspettarci e questo cosa c'è chi ci dirà che cosa quale delle due possibilità privilegiare come al solito è un discorso di swing per cui se prima vorrei andare a fare un top chiudere appunto questo secondo T più 2 inverso e poi andare sotto per fare perlomeno un T meno 2 l'indice a ribasso per chiudere il T più 1 di settimanale partito appunto da qui lo vedremo comunque nel corso della settimana capite che comunque dopo questa salita forse nata che anche su DAX difficilmente ha precedenti guardate che roba da qua a qua se torniamo indietro anche in questo caso oltre al 2007 difficilmente ne troviamo una di questo tipo quindi statisticamente ci sta dicendo qualche cosa di molto importante è importante capire che cosa vorrà fare l'inverso dopo la chiusura del primo T più 3 e quindi dopo che saranno andati sopra questo massimo a 13297 perché dovrà esserci una fase di storno anche se come detto le cose non sono semplici da leggere in questo momento anche perché se ci guardiamo questa lateralità ragazzi di nuovo era un bel po' di tempo che non c'era una cosa di questo tipo che quindi non galleggiavamo sostanzialmente tra i 13.000 e i anche un pochino meno non prendiamoci le spike i 13.249 250 punti di training range non è male ma sicuramente non è il massimo ok d'accordo per quanto riguarda invece il MIB qui situazione differente abbiamo continuato a salire non ci siamo fermati sotto il massimo fatto il 9 di novembre e quindi anche in questo caso abbiamo una salita fortissima qui ho già segnalato che siamo serenamente in partenza di nuovo T più 3 trimestrale anche perché prima abbiamo avuto 160 giorni di semestrale e anche in questo caso abbastanza bizzarri perché abbiamo avuto un primo T più 2 un secondo T più 2 quindi un T più 3 regolare un trimestrale regolare poi abbiamo avuto un primo T più 2 quindi primo mensile un secondo T più 2 partito qua ok e chiusosi poi qua con questo movimento in aggiunta e successivamente abbiamo avuto un altro T più 2 un terzo T più 2 quando ecco ci si aspetta solitamente una forma 2 e oltretutto non abbiamo neanche avuto un T più 1 che facesse da raccordo per far partire il secondo T più 4 che è molto ma è probabile che sia partito da qui non abbiamo il tempo dalla nostra ma la violazione degli swing c'è tutta ok e scrivo T più 3 soltanto per il fatto che non ho i giorni ma ho appunto swing e ovviamente salita salita pazzesca peraltro un annuale un T più 5 annuale un ciclo annuale un onda annuale non possono essere terminati soltanto a 160 giorni per cui dato che c'è stata anche una bellissima violazione di questo inverso qui abbiamo già che è tutto vincolato a rialzo ci saranno ovviamente poi tutte le considerazioni del caso da fare per il discorso relativo alla partenza di un secondo T più 3 che dovrebbe anche in questo caso riportarci verso i 20.765 ed eventualmente anche verso i 20.169 però la forza che abbiamo visto per adesso non ci consente di valutare operazioni contro trend fino almeno a quando non corrisponderanno a violazioni di swing importanti anche volumi che non ci riportino su vi faccio vedere swing importante violazione riportati su area di swing importanti violazione riportati su capite che siamo entrati in tendenza tendenza volumetrica per cui non ci scostiamo da questa media mobile a 50 periodi e fanno una quantità di finte che sono disarmanti anche perché qui siamo rimasti per buona parte del tempo sotto la media mobile ma poi ci siamo ritornati sopra proprio dopo peraltro la rottura di uno swing importante rottura qua siamo andati sotto e poi riportati ampiamente sopra per cui finché non avremo violazione e tempo swing e volumi sarà più complesso ovviamente mettersi a valutare di short in questo caso abbiamo però che appunto secondo t più 2 inverso secondo me è il silenzio inverso che può essere partito da qua e qui è andato ben oltre le 44 43 barre massimo quindi si sarà probabilmente fermato qua a 39 può aver fatto 41 quello che uno vuole ok in realtà qui probabilmente 41 successivamente partenza di un altro t inverso a raccordo a questo punto quindi a raccordo tra di nuovo un t più 3 inverso perché qui siamo arrivati alla lunghezza serena di un t più 3 inverso 82 barre un t più 3 inverso raccordo di grado t settimanale partenza di alto t più 3 inverso per adesso sembrerebbe anche se questo non ha più tanto la forma di un raccordo per cui siamo in un momento in cui anche a livello di singoli piccoli raccordi ne abbiamo tanti rispetto alla statistica normale bisogna quando ci si trova di fronte a fenomeni particolari e visti raramente in passato bisogna avere pazienza bisogna fermarsi ragionare capire cosa si può fare perché se no non si fa altro che continuare a perdere soldi eventualmente d'accordo vi ringrazio per il vostro tempo se l'analisi vi ha dato qualcosa mettete un bel like viceversa comunque buona domenica a tutti grazie a tutti grazie a tutti